Per questi due gol che erano un po' che non segnavo, sono contento, sono i primi gol che faccio anche qua al palli quest'anno quindi peccato il risultato però sono contento per i gol. Raccontaci. Il primo ho provato a fargli il sombrero, mi è andato anche bene perché è scivolato quindi mi sono trovato da solo durante la porta e invece il secondo, Ronny ha messo un bel pallone e mi è arrivato lì. È arrivato diretto da Ronny? Sì, sì. Non l'ha toccata? No, non l'ha toccata nessuno. Tu com'è che l'hai toccata? Io di piatto, comunque sono arrivato lì in corsa. Invece sul primo volevamo premiare il suo coraggio perché solitamente uno l'appoggia. Sì, sì, ho provato a scavalcare difensore, è andato anche un po' bene. Doppietta è qualcosa che a parte in prima squadra forse no, l'anno scorso oppure da un po' che mancava? Da un po' che mancava. Vabbè quest'anno in Coppa Italia e adesso. Ah ok, a settima. La preparazione per il campionato come è andata? È andata abbastanza bene, quindi mi sentivo anche in forma oggi. Quanti chilometri hai fatto? Non lo so. Perché poi uno fa tanti chilometri e non riesce magari a essere lucido e invece tu hai abbinato… Tutte e due. Oggi sì, sarà una bella giornata, a parte il risultato, ripeto. Come vedi la seconda parte di stagione del Qatar? Speriamo di ripetere quello che abbiamo fatto all'inizio e magari fare anche qualche punto in più, come contro il Varese o come oggi contro il Chieri che abbiamo perso all'andata e oggi abbiamo pareggiato. Ti sei sbloccato, spero di fare una alta. Sì, spero di continuare così. Adesso tu sei partito da esterno, l'anno scorso, anche quest'anno, e poi sei passato centroavanti. L'abbiamo sempre chiesto al mister ma non abbiamo mai avuto l'occasione di incontrarti. Com'è che è stato questo cambiamento da esterno a primo punta? All'inizio mi sono trovato un po' spaesato, devo dire la verità perché non era proprio il mio ruolo. Però andando avanti, vedendo comunque i movimenti di Sinato, anche lui mi dava consigli e tutto. Piano piano sto imparando come si fa ruolo di una punta. Beh, trovi difensori come ad esempio Cacciatore. Sì, comunque sono strutturati bene. Cioè è dura però cercherò di fare il meglio. Grazie.